spero che funzioni anche il cross post in perfetto siamo online puntualissimi e abbiamo voluto fare questo incontro partendo da un appello che abbiamo primosso come transform italia e vorremmo dare la parola io darò subito la parola a roberto musacchio per presentare un po quello che era le nostre intenzioni e promuovendo questo appello che è stato fatto in tempi diciamo pre guerra e quindi ha bisogno sicuramente di una qualche aggiunta o qualche riferimento a questo tragico evento che però mantiene anche anche oggi una sua validità e quindi forse la guerra addirittura ha cresciuto la necessità di avere un'impostazione diversa per un cambio radicale delle nostre economie della nostra sistema produttivo per poter consentire all'umanità di poter continuare a vivere sul pianeta intanto ringrazio gli ospiti nera mazzoni responsabile ambiente di fondazione franco russo che è un nostro amico di transform nonché ambientalista e rappresentante un po' di quel pensiero verde che ospita anche la sinistra e Maurizio Cerdo segretario di rifondazione comunista con me oltre a Roberto Musacchio c'è Riccardo Rifici e Roberto Rosso che insieme proveremo un po' a porre delle questioni su cui puoi chiedere il vostro parere e quindi io lascio la parola a Roberto Musacchio per una presentazione un po' dei contenuti che vogliamo affrontare. Sì grazie e staremo in un'ora per cui rinvio tutti quanti anche a leggersi i materiali sul sito di transport ma abbiamo pensato questo appello perché sta nelle corde della cultura anche alter europeista che noi abbiamo. L'abbiamo pensato con due obiettivi abbastanza chiari. Uno è quella di costruire un discrimine tra appunto l'ambientalismo ornamentale e quello radicale. Ci sembra indispensabile perché sostanzialmente l'idea che si possa verniciare di verde il capitalismo finanziario e globalizzato ci sembra un'idea nefasta per il movimento ambientalista per la sinistra e soprattutto per il pianeta. Ci sembra un'idea che va a cozzare duramente rispetto ai processi di finanziarizzazione, di globalizzazione che portano sempre di più a una espropriazione dei beni comuni, a una mercificazione integrale e a contraddizioni come quella da cui parte l'appello insomma di mettere il metano nucleare dentro la tassonomia verde da parte dell'Unione Europea. Salvo poi andare a sbattere sulla guerra ma adesso ci arrivo rapidissimamente. Il secondo che anche alla base del colloquio che abbiamo avuto con Franco nel russo che ci proponeva lui anche di organizzare questa iniziativa è che questa dimensione ci risulta fondativa di una nuova stagione di quello che al tempo avremmo chiamato movimento operaio che continua a chiamare movimento operaio ma dal punto di vista di essere un movimento di trasformazione complessiva in termini rivoluzionari degli assetti sociali ma che per tutto il resto ha bisogno di una rinominazione e quindi questa questione rosso-verde è al centro precisamente di questa rinominazione. Sulle pagine online di Trasform troverete molti contributi che già ci sono e altri speriamo che arrivino poi abbiamo avuto un attimo l'interruzione per la guerra, hanno scritto Massimo Cacciari, Gisullo, insomma abbiamo franco russo, sono una diecina insomma adesso Patrizia Sentinelli e diversi altri esponenti storici dell'ambientalismo. Adesso ne ho dimenticati. Paolo Cacciari. Paolo Cacciari, ecco ti ringrazio perché ne ho dimenticati diversi ma chiedo scusa. L'ho dimenticati perché volevo poi arrivare al punto di aggiornamento che ci promoneva già Roberto Morea. Cioè riletto adesso ma allora non c'era la guerra, dopo la guerra uno gli viene anche da dire ma adesso questa globalizzazione che è andata a sbattere sulla questione della guerra eh che ci dite, che proponete? Eh cioè di andare a prendere il metano classificato dagli Stati Uniti e portarlo in Italia cioè che è un assurdo dal punto di vista ambientale, economico e così via. Cioè se c'è qualcosa di peggio della globalizzazione capitalistica è la rottura per linee geopolitiche e di interessi economici del capitalismo della stessa globalizzazione. Eh il rincorrersi di questi personaggi che hanno glorificato la globalizzazione su linee di una sorta di neo autarchia e e di eh compravendita eh di quello che serve dal dal soggetto amico anche se tutto ciò è è il primo risenso eh è francamente un ulteriore arretramento come si può dire di di visione della società che noi siamo vivendo. Eh proprio la vicenda dell'energia è emblematica e naturalmente però poi a ricordarci che nonostante tutto eh questi eh guardano i loro interessi anche quando si fanno la guerra l'uno con l'altro eh faccio un po' di pubblicità non ho fatto un pezzo questa settimana sull'est come siamo amici faccio pubblicità all'est ho visto i dati della dei gli extra profitti energetici nel giro per il mondo del 2021 francamente sono impressionanti a riguardo tutti dall'Italia a Gazprom agli Stati Uniti in America eccetera eccetera. Ecco queste sono un po' le tematiche eh io da questo punto di vista mi taccio penso che la guerra ci consiglia ancora di più l'esigenza di un'ambiente ambientalismo radicale eh capace di rinominare una soggettività antagonista radicale e qui penso che Franco Russo ci dirà la sua da questo punto di vista. Grazie. Grazie Roberto. Posso? Grazie Roberto. Io parto per usare anch'io proprio cinque sei minuti da una bella espressione di Roberto Musacchio cioè la rinominazione che forse è un modo appunto per affrontare il la costruzione di una sinistra rosso verde eh eh che dà l'occasione il rosso verde non per ricostruire la vecchia sinistra come anche alcuni appelli che girano in questo momento vanno riproponendo ma invece per costruire una sinistra alternativa al capitalismo. Questa rinominazione quindi ci chiede secondo me un salto culturale molto molto forte. Un salto culturale che naturalmente deve fare i conti con eh i i cigni neri. In questo caso sono due cigni neri che sono capitati in questa in questa fase cioè il covid diciannove la pandemia e la guerra in eh in Ucraina condotta da voluta e guidata da 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 Putin. Eh io credo che l'innesso fra ambientalismo ecologismo alternativo e guerra sia molto forte. L'hanno detto anche gli esponenti di di Fridays for Future quando hanno messo in evidenza giustamente la la competizione per quanto riguarda la ricerca di 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 fonti energetiche e per quanto riguarda la ricerca dei materiali fondamentali per la transizione digitale e verde della cosiddetta verde del dell'economia. Io quindi il primo punto è proprio questo quello che dice Roberto cioè rinominare. Questo naturalmente lo lo dico rivolto soprattutto a Maurizio Cerbo che essendo segretario di un partito comunista cioè di di fondazione comunista io penso che che si debba affrontare questo discorso questo tema culturale simbolica della rinominazione. La seconda considerazione che voglio fare è questa. Ehm nella guerra si vanno ridelineando appunto delle sfere di grandi spazi economici e come è successo con la con la seconda guerra mondiale peraltro cioè anche la seconda guerra mondiale oltre diciamo così all'ideologismo razzista e antisemita di Hitler il grande confronto era fra la costruzione di grandi zone economiche. Hitler voleva appunto una zona economica che andasse dalla Germania alla alla all'unione sovietica dominata quindi dagli interessi dell'imperialismo tedesco. Oggi si vanno ridelineando le grandi sfere ehm geografiche economiche e nell'Occidente nel cosiddetto occidente capitalistico ritorna in pieno l'egemonia americana grazie ovviamente ai superarmamenti che che gli Stati Uniti possono disporre. In queste grandi aree economiche naturalmente conta il modo in cui si viene si ci si approvvigiona del dell'energia in modo in cui si si ricostruiscono le catene di valore trasnazionale il modo in cui si recuperano le le ci ci si aggiudica le le grandi aree di di sfruttamento minerale. Ehm e quindi per esempio il rapporto fra l'Unione Europea e l'Africa ha la sua a rientra in questa appunto ridefinizione delle grandi aree delle grandi sfere economiche. Quindi la guerra è no è uno strumento non solo di dominio di controllo di egemonia svolto sia dalla dalla Russia di Putin ma utilizzata anche dagli Stati Uniti d'America la quale appunto è ritornata egemone sia per quanto riguarda lo sferimento nato sia per quanto riguarda appunto le fonti di approvvigionamento cosa che ricordava già Roberto eh Musacchi. Quindi il rosso verde non è una questo io l'ho l'ho scritto l'ho scritto anche a a Maurizio Cerbo ehm non non è una somma diciamo così delle vecchie idee del movimento operaio e delle nuove idee dell'ecologismo. Secondo me il rosso verde ha come caratteristica del terzo punto e poi mi taccio la caratteristica è quella della complessità. La complessità cosa significa? Che non c'è un un tema eh dominante nel mosaico dei contributi alla ridefinizione di un'area culturale come quella appunto di una sinistra alternativa ecologista e rossa al capitalismo. La complessità significa che ogni ogni tessera ogni contributo ogni filone eh apporta il suo contributo e della interrelazione fra questi contributi fra questi filoni nasce appunto come dicono i teorici della complessità la caratteristica la qualità emergente che non è la sommatoria appunto dei dei vari colori ma è appunto una un nuovo prodotto che io non saprei definire altrimenti che rosso verde ma che appunto starà a noi costruire. Termino dicendo questo io non credo che noi possiamo continuare ad alimentare appelli ai ai vecchi gruppi dirigenti ai vecchi militanti questo non non per coinvolgere solo i gruppi dirigenti della sinistra perché si mettano insieme magari riscoprendo appunto il valore rivoluzionario e trasgressivo di Landini e della CGL oggi occorre secondo me dialogare interrelazionarsi eh rapportarsi alle ai movimenti alle lotte che ci sono sul front sui vari fronti a cominciare dai territori per finire appunto al movimento pacifista che oggi mi pare si alimenti molto appunto delle tematiche ripeto basta leggere gli slogan delle ultime manifestazioni dei Fridays for Future che alimenta appunto delle questioni dell'energia e dei e dei materiali quindi delle delle dell'ecologismo io penso che rifondazione comunista potrebbe avere un grande una grande influenza nell'avviare questo questo processo e io mi aspetto che la generosità che hanno sempre dimostrato che ha sempre dimostrato rifondazione comunista e i suoi militanti e possa dare avvia appunto a questo nuovo inizio di una costruzione rosso rosso verde anche perché noi abbiamo da battere e qui veramente mi taccio abbiamo da battere due avversari uno è naturalmente l'impresa capitalistica e gli agenti del mercato capitalistico quindi la grande finanza oltre alle grandi multinazionali e la tecnocrazia che guida questi questi processi due anche se dobbiamo contrastare io non ho diciamo così peli sulla lingua contrastare il falso verde cioè quei verdi che per decenni hanno appunto controllato il simbolo ecologista e che invece hanno dato la loro la loro attività e la loro e le loro le loro prospettive le loro strategie nelle mani appunto del del capitalismo perché non solo a livello politico ormai loro stanno nell'area del del governo le cosiddette forze eh verdi ambientalista ma soprattutto loro hanno condiviso diciamo così di hanno condiviso la grande strategia del capitale che è di affidare appunto ad un capitalismo rinnovato la il compito di attenuare le contraddizioni ecologistiche ma come dimostra anche eh la guerra appunto lungi dall'attenuare le contraddizioni anche in campo ecologico si vanno queste approfondendo sta a noi tentare appunto un'altra via recuperando anche non gli anni ma i decenni che abbiamo perduto vi ringrazio per l'attenzione grazie Franco e do subito la parola a Elena per il suo contributo sì eccomi buonasera a tutte e tutti e ringrazio Transforma di averci dato questo momento di riflessione e soprattutto di aver lanciato l'appello e pur con la criticità che tutti e due Roberti evidenziava dal fatto che improvvisamente tra virgolette e ci siamo trovati all'interno di di un rischio di terza guerra mondiale ovviamente ha rallentato tutto quello scusate ma invece è una maleducatissima che appena c'è una diretta lei giustamente vuole vuole inserirsi dicevo ha rallentato praticamente tutto questo questo processo che che stava partendo e però diciamo noi torniamo da Firenze dove c'è stato questo questa bella manifestazione della GKN che ha visto per la prima volta dopo tanti anni una forte convergenza del movimento dei lavoratori con il movimento ambientalista quindi superando quello che era stato sempre un un elemento proprio di di divisione tra tra lavoratori e ambientalisti che era quello del ricatto al quale siamo stati sottoposti tra tra il lavoro e l'ambiente questo non solo perché si è saputo sicuramente lavorare lavorare bene sulle contraddizioni del capitalismo che ha dimostrato appunto come in alcuni casi casi più lampanti a partire da da il va passando per la vertenza dei fas e molte altre vertenze ci ritroviamo senza la tutela del lavoro e senza la tutela dell'ambiente quindi è un'evidenza molto forte sulla quale si è saputo lavorare bene l'hanno fatto i comitati nei territori l'abbiamo fatto noi dove siamo presenti l'abbiamo fatto veramente io non ho nessuna come posso dire moderazione o anche timore di dire che ad esempio sulla vertenza dei fas e noi abbiamo avuto un protagonismo molto forte siamo stati noi con quel valore che rifondazione comunista ha quella capacità valoriare a portare appunto all'interno del movimento no fast che iniziava con un movimento praticamente di mamme delle dei contenuti politici che adesso portano addirittura all'elaborazione di una proposta di legge che è arrivata in senato e commissione ambiente dove abbiamo anche delle senatrici che sono anche vicino alle nostre posizioni quindi con le quali possiamo possiamo lavorare dicevo questa è stata una capacità nostra di creare questa di mettere l'accento su queste su questa schizofrenia proprio del sistema dall'altra c'è anche la consapevolezza dei giovani che non vanno assolutamente sottovalutati anzi vanno veramente sostenuti ma incoraggiati e premiati del lavoro che hanno fatto che capiscono che c'è possibilità di avere un ambientalismo senza una reale lettura di quelle che sono le persone di classe quindi non si parla più di un ambientalismo e qua c'è ragione Franco quando dice gli ambientalisti che si sono vestiti di verdi ma che verdi non erano perché magari stavano proprio dietro quelle che sono le le più grandi contraddizioni del capitale soprattutto quando governa cioè non è ambientalismo a titare puntare il dito su chi non non utilizza la bicicletta o se chi non ha la possibilità di avere eh la macchina elettrica ma il vero ambientalismo è quello di ragionare sul trasporto pubblico ad esempio su un trasporto pubblico che sia accessibile a tutte e tutti che sia appunto sostenibile eh da un punto di vista ambientale che sia che raggiunga tutte le zone delle città anche le zone più marginali e più periferiche queste sono cose che le nuove generazioni le capiscono bene perché le vivono su di loro molte volte eh nei movimenti ambientalisti abbiamo giovani che sono studenti poi di sede che partono dal sud dell'Italia che eh come ben sappiamo anche per la questione dell'autonomia differenziata che è una questione che come che con trasporto e con ricomentazione appunto seguiamo è un'altra questione della che si compone all'interno della varietà di pertenze che che tocca il tema ambientale e quindi dicevo molti di questi giovani all'interno dei movimenti ambientalisti sono giovani poi di sede che si trovano ad andare a vivere nella grande città che può essere Roma può essere Milano eh perché sono sedi sedi universitarie e si scontrano con queste problematiche del anche dei trasporti o anche la scelta di essere eh di essere animalisti eh all'interno della della catena appunto della scelta di come alimentarsi quindi questi questi valori che vanno aggiungere i ragazzi questi temi oltre quelli che abbiamo sempre portato portato noi che faceva riferimento a Roberto quindi siamo sempre stati dei sostenitori della lotta al nucleare e non dimentichiamo abbiamo avuto il ventidue eh scorso il ventidue marzo la giornata mondiale dell'acqua che abbiamo vissuto con protagonismo come partito della rifondazione comunista insieme al forum dei movimenti per l'acqua pubblica in senato parallelamente come sinistra europea al Parlamento europeo eravamo in un'importante iniziativa eh internazionale c'erano Roberto Musacchio e Roberto Morea che era stata organizzata per fare un proprio una sorta di risoluzione che impedisca la che vada contro la quotazione dell'acqua in borsa quindi in mezzo a tutte queste che sono battaglie storiche nostre contro il consumo di suolo contro le grandi opere questi eh aggiunte proprio come valori ma anche come esperienza che portano alle nuove generazioni sono importantissime per questo io credo che delle esperienze di Firenze noi dobbiamo fare tesoro perché non tanto per la vertenza in sé quanto la la capacità proprio di comprendere come tutte le vertenze siano siano collegate quindi la vertenza lavorativa e la vertenza ambientale non devono essere più due vertenze rivali perché in questo paese in questo momento non c'è la tutela di nulla non c'è la tutela del lavoro non c'è la tutela dell'ambiente non c'è la tutela dell'istruzione della sanità quindi un altro tema molto forte quello della guerra ma soprattutto della corsa agli armamenti che ovviamente anche quello è un tema che non è che economicamente non è sostenibile quindi io penso di aver aggiunto abbastanza e lascio la parola al segretario che avrà sicuramente delle aggiunte da fare ovviamente noi siamo a disposizione spero il prima possibile di dare anche il mio contributo scritto perché vedo Roberto che mi guarda un po' male perché stanno in ritardo vanno in colpevole ritardo grazie grazie a terra e penso aspettiamo con ansia il tuo contributo così come di tutti quelli che vogliono e che magari stanno ascoltando adesso e dalla parola a maurizio penso che questa sollecitazione che ci faceva franco a immaginare questa questione non più come una sommatoria di di argomenti ma come come necessità per un mondo così complesso come quello che viviamo sia una giusta sollecitazione vuole sapere anche da te come dare una forma politica a questa a questa visione della della politica appunto capace di risolvere la complessità ma innanzitutto io penso che sia una questione non esattamente nuova il per quanto mi riguarda sono rosso verde dal dalla fine delle scuole medie forse quando conosciuto laura conti e giorgio nebbia e penso che la sinistra non possa che essere rosso verde e che la sinistra che viene dal movimento operaio dalla storia del socialismo e comunismo non possa che essere tale condivido completamente quello che dice franco dal punto di vista della sommatoria qui non si tratta di farie sommatori e ma di avere una visione complessa su un punto di vista sulla società capitalista eh che tenga conto eh delle contraddizioni e quella ambientale non è sicuramente una contraddizione eh secondaria devo dire che io poi penso che questa che liberare eh l'eredità del marxismo del socialismo e del comunismo ma anche nelle correnti del movimento operaio che non erano marxiste eh dallo sviluppismo e dall'industrialismo propri del della fine dell'ottocento e del novecento eh sia un un compito che si pone almeno dagli anni eh sessanta da dal punto di vista della teoria almeno dalla pubblicazione della traduzione italiana curata da eh da un compagno compianto Virginio Bettini che la che tradusse il cerchio da chiudere di Barry Commoner ma era un dibattito che appunto è di lunga data si è tradotto nello sviluppo di movimenti che molto spesso sono andati a separarsi il rosso è diventato una eh cosa che di rossa ho mantenuto molto poco perché eh il socialismo reale o le socialdemocrazie insomma non sono riusciti a produrre un'alternativa socialista eh un progetto di alternativa socialista e i i movimenti verdi che ricordo nacquero questa storia del colore verde fu un'idea eh della nuova sinistra tedesca in particolare eh di Rudy Ducchi e Bois eccetera che si erano stufati di essere accusati come sinistra come opposizione di sinistra la socialdemocrazia di essere quelli della DDR eh ecco poi sono passati un po' di decenni il verde è stato egemonizzato parlo come forze politiche che così si autodefiniscono eh è stato diciamo reinglobato nel discorso neoliberale e lo si vede con con la parabola dei verdi tedeschi eh c'è da anni in Europa un tentativo non solo in Europa di nuove sintesi eh rosso verdi eh mi pare che vada perseguito con convinzione non credo che sia un problema tanto di eh di marketing quando un problema di effettiva capacità di radicare e di costruire movimenti eh delle classi lavoratrici e che abbiano coscienza di specie e coscienza di classe diciamo come diceva Enzo Chiezzi e via discorrendo io ci aggiungerei con l'idia menapace anche il viola eh del femminismo. Si è perso un pezzo. Eh? Che cosa? Non mi sentite? No dicevo ci aggiungerei anche non mi sentite eh? Sì sì io ti sento. Io non ho toccato niente. No no dai adesso sì sì sì. Allora stavo dicendo che eh a mio parere noi non dobbiamo agire per sottrazione ma rispetto a un eh movimento storico di lunga data dobbiamo avere la capacità eh di reinventarlo come già è accaduto sempre e da questo punto di vista io sono contro le culture monoteiste e cito proprio Lidia eh per questo eh condivido la proposta della complessità che faceva eh Franco come punto di vista dico che lo dovrebbe essere eh da qualche decennio perché alla fin fine ho sempre ritenuto molto rozzo e volgare eh pensare che tutto si riduce se la questione fondamentale la contraddizione capitale lavoro o ne sono altre. Il capitalismo rappresenta una totalità eh questa totalità eh pone una serie di contraddizioni che si aggiungono a contraddizioni che hanno radici anche più antiche del capitalismo basti pensare all'infamia originaria del patriarcato eh e quindi una moderna e una contemporanea critica eh della società capitalistica eh delle sue eh dinamiche distruttive eh o di oppressione o di devastazione eh non può che tenere conto eh eh della complessità dei punti di vista eh dopodiché io non sono per il nominalismo eh penso che l'ecosocialismo dimostri che che è una parola così bistrattata fino a pochi anni fa eh come socialismo ricordo che nel 1989 eh Ralf Darendorf scrisse un saggio la morte del socialismo adesso negli Stati Uniti d'America tra i millennials il socialismo è più eh popolare del capitalismo probabilmente in maniera anche superficiale ma eh questo non conta dice che per quanto riguarda eh i nomi le cose sono complicate quello che conta è costruire una soggettività che sia anticapitalista non solo sul piano della eh della lotta che riguarda la contraddizione del capitale lavoro ma eh che riguarda anche la devastazione ambientale e quello che Marx chiamava il ricambio organico con eh la natura penso che la soggettività complessa plurale eh che dobbiamo costruire la convergenza eh anche sul piano politico non solo dei movimenti e non possa che essere eh rosso verde e anche viola di questo ne sono eh convintissimo eh penso lo dico sono io sono per la critica il superamento non per l'abbandono delle culture politiche eh che ha prodotto devastazioni negli ultimi anni negli ultimi vent'anni in Italia enormi e ha fatto sì che anche personalità della sinistra abbiano abboccato al grillismo in questa in questo cupio dissolvi della propria cultura eh e della propria storia quindi a questo punto di vista io sono assolutamente eh contrario eh penso che però dobbiamo sottoporre sempre a a critica radicale la nostra storia la nostra cultura servando ciò che è utile e quando dico nostra storia e nostra cultura lo dico al plurale perché anche questa storia quando ci diciamo socialisti o comunisti eh beh ci sono tante cose che sono state socialiste e comuniste e ci sono una parte con cui bisogna fare i conti eh per quello che sono state eh e farli fino in fondo credo che noi non abbiamo nessuna reticenza di questo tipo penso e su questo sono completamente d'accordo con Franco eh che eh noi abbiamo bisogno appunto di una soggettività che sia eh rosso verde sia plurale eh per le ragioni che dicevo sarà possibile però costruirla se dal cielo del dibattito per me fondamentale eh di carattere teorico riusciamo a costruire anche un tessuto eh di convergenza reale delle lotte io lo dico con sincerità negli anni ottanta io avrei potuto diventare uno dei verdi nel senso che per storia sono sempre stato un militante ambientalista qualche costutiano quando facemmo rifondazione mi diceva ma tu sei più verde che rosso nel senso mi occupavo di urbanistica consumo di suomi queste cose fin da ragazzino e altre con nucleare eccetera non divenni dei verdi perché verdi non si dichiaravano anticapitalisti cioè non inserivano il loro ecologismo dentro un progetto di alternativa di società oltre il capitalismo io credo che questo invece sia un elemento fondamentale e riemerge questa necessità di fronte anche lo scenario da millenovecento quattordici in cui eh ci troviamo ed è già emerso di fronte alla guerra di Jugoslavia quindi se posso dirlo io penso che ogni generazione debba reinventare una tradizione lo fece già Karl Marx col patrimonio che trovò precedentemente è stato fatto in parte negli anni sessanta settanta anche dal movimento alter mondialista noi dobbiamo proseguire questo sforzo eh non lasciare nessuna buona idea e analisi eh dentro teche museali e liberarci di tutto ciò che non serve a costruire la lotta per l'oggi eh io sono contrario lo dico eh al nuovismo e nuovi inizi primo perché porta uno sfiga perché mi ricordano occhetto due perché in Europa hanno portato un sacco di verdi anche di rosso verdi a non capire eh la differenza tra delle lotte di liberazione come sono quelle dei curdi e eh le guerre umanitarie della Nato io questo vorrei evitare so che non è un problema di Franco e di nessuno collegato qui io credo che quindi abbiamo un lavoro da fare ripeto sono completamente d'accordo e non penso che rifondazione possa pensare che tutto ciò che c'è di anticapitalista di ambientalista radicale di femminista radicale eccetera possa entrare dentro rifondazione comunista rifondazione comunista può essere un pezzo che porta una storia una tradizione dentro una eh una tradizione che fortunatamente è di continua rifondazione dentro eh un movimento più complesso dentro il quale ci siano tanti colori tante storie e tanti punti di vista eh anche diversi di partenza c'è un bellissimo proprio alla fine eh di un testo di Edgar Morin che amava molto Lidia Menapace e che era il teorico come sa Franco della complessità eh Morin proponeva di riprendere non solo le grandi tradizioni libertaria socialista e comunista del novecento ma anche l'ecologia e il femminismo in una nuova sintesi è il compito della nostra generazione soprattutto di quella che viene dopo di noi perché anch'io comincio a diventare abbastanza vecchiotto credo che nei movimenti in tutto il mondo questa ispirazione già ci sia quindi siamo sulla buona strada quindi combattere diciamo il falso verde ma anche il falso rosso eh credo che sia un dovere perché in realtà né lavoratrici e lavoratori e né gli ecosistemi sono al sicuro con il verde e il rosso eh dei neoliberisti grazie Maurizio e adesso facciamo un breve discorso un breve giro tra di noi vediamo te da do la parola subito a Riccardo che della redazione con noi segue un po' queste tematiche anche da vicino Riccardo Rifici sì eh grazie io volevo un po' ricondertemi a queste cose che ha detto all'inizio sia Roberto che Franco Russo e poi riprese anche dagli altri due persone che sono intervenute ma sicuramente c'è da superare cioè da fare chiarezza fra queste diciamo chiamiamoli queste due versioni dell'ambientalismo però appunto secondo me si fa chiaramente partendo dalla questione della complessità che non è una questione così banale cioè forse su questo bisogna fare uno sforzo maggiore perché io nella mia storia eh io vengo dalla vecchia democrazia proletaria io ho vissuto un po' questa eh frattura nel senso che l'ambientalismo era considerato qualcosa di importante ma collaterale tra altre cose qualche volta più importante qualche volta meno importante ma la questione della complessità non è mai stata affrontata a fondo a me è una cosa eh che mi ha formato e tuttora credo che sia importante è un'esperienza di quando andavo a scuola negli anni settanta quando facevo l'istituto tecnico per chimici e poi ho fatto l'università c'è stata proprio quel filone di diciamo di lotte di esperienze che erano partite un po' dalla rivista Sapere dal movimento che c'era intorno a Maccacaro noi in particolare quando ero all'istituto tecnico facciamo un gruppo di studio con il gruppo operai impiegati dalla Montesio di Castellanza e una cosa molto interessante era che in quella esperienza si connettevano ma in maniera cioè proprio affrontando la complessità diversi temi erano quelli del lavoro erano quelli dell'ambiente erano quelli della salute ma erano anche quelli che connettevano i soggetti che c'erano su quei su quei territori dove questi gruppi lavoravano e non era una cosa facile poi non ha portato a molto si è un po' affossata però quel tipo di esperienza un'esperienza che si è confrontata con l'esperienza che intanto stava crescendo che era quella che partiva dal club di Roma dai movimenti Italia Nostra eccetera eccetera ma si confrontava con una visione integrata una visione diciamo che metteva insieme temi e soggetti e questa non è una banalità è una cosa che è difficile da fare ma questa dovrebbe essere sicuramente l'impostazione che come diceva mi sembra franco russo debba servire per costruire un qualcosa di nuovo tra l'altro questo tipo di impostazione confligge molto con un altro tema che sembra un po' secondario adesso mi sembra che ne abbia l'abbia toccato Elena prima che è quello adesso sta avanzando oltre la questione più importante della guerra eccetera in Italia sta avanzando la questione dell'automia differenziata che da un lato sembra che vada in contrasto con una sorta di centralismo statale becero eccetera ma in realtà non fa altro che riproporre quel centralismo su territori senza valutare cosa c'è sui territori cioè quel lavoro che era stato fatto appunto negli anni 70 con quelle lotte era un lavoro che partiva dall'analisi dei bisogni dei territori e da cosa potevano fare i territori per esempio nella produzione si discuteva cosa produrre come produrre e come si connettevano quelle produzioni con i territori che c'erano circostanti l'autonomia differenziata che sta passando adesso ripropone il peggio dello statalismo ma aumentando le differenze fra i vari territori quindi questa impostazione è davvero importante da affrontare io mi fermo qui perché credo che questo sia uno dei nuclei fondamentali del lavoro che dobbiamo fare grazie grazie riccardo dalla parola a roberto rosso che anche la redazione segue oltre diciamo per vicende legate appunto al territorio segue queste queste questioni diciamo a me venivano in mente alcuni punti poi perché ovviamente nessuno di noi è nuovo a questo dibattito ognuno poi ha una sua biografia che risale poi ognuno io sono ho fatto 73 anni quindi la mia biografia torna parecchio indietro necessariamente con alterne vicende il tema della complessità che il carattere della complessità qui faceva riferimento franco evidentemente è fondamentale e corrisponde però a fronte la complessità anche un disorientamento un disorientamento profondo che in realtà le varie associatività al di là delle capacità analitiche vivono come capacità pratica perché poi la pratica la realtà delle lotte a cui si mi sembra non esiste faceva riferimento è fondamentale ed è io sono di vecchia scuola e dico che nelle lotte comunque declinate nelle nuove condizioni eccetera che si crea conoscenza solidarietà comprensione anche proiezione del futuro questa complessità ci disorienta gli ultimi la questione la questione economica la questione sociale il rosso più o meno tradizionalmente inteso insomma se facciamo solo riferimento all'ultimi a questo secolo insomma ci riporta a una dimensione globale delle crisi a una trasformazione anche dell'egemonia di cui si faceva riferimento che insomma ci propongono come dire un cielo del non della politica ma della realtà che appare difficile da conquistare da influenzare a partire dalle 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 dalla forza concreta oltre che alle idee che noi riusciamo riusciamo ad avere io sento sarà anche l'età voglio dire che influisce in tutto questo la questione della questione climatica la questione ambientale quindi io vivo tra l'altro faccio una breve parentesi a colleferro vengo da milano dove avevo fatto un certo tipo di esperienza nei decenni precedenti a colleferro negli ultimi dieci anni ho praticato anche con successo una serie di lotte ambientali anche se abbiamo fatto chiudere inceneritori di scariche ci siamo non abbiamo fatto in solitudine di un in un comune di 23 mila abitanti ma ovviamente in rete in solidarietà e però per certi versi benché possiamo essere come dire orgogliosi del tutti assieme di essere scesi in piazza in tanti di aver coinvolto istituzioni forze politiche culturali sociali ma ci siamo stufati per certi versi di dire no cioè da un po di da un certo tempo ovviamente cerchiamo di capire a partire da un territorio anche come si può influire sulla trasformazione positiva ovviamente parte a parlare di territorio implica parlare dei territori cioè cosa significa la rete c'è la gira assieme dei territori e in che e questo pone tutti i problemi quindi della rappresentanza dell'organizzazione pone tutti le questioni di cui di cui si tratta io non sono ottimista veniamo da glesgo dove sostanzialmente c'è stato il fallimento sostanziale di quella di quell'evento dove evidentemente i tempi alla rispetto alla questione globale del riposto dal cambiamento climatico le grandi aree le grandi regioni anche le grandi coalizioni di paesi poi ci sono paesi come la cina gli stati uniti che sono di per sé dei poli hanno agito ognuno per conto suo ecco detto questo allora nasce noi abbiamo un evidente necessità a fronte di una capacità di credo di fare cultura movimento eccetera sulle questioni ambientali di riuscire a capire come il quotidiano il locale si diventano forza politica programmatica diventano qualcosa di di più sostanziale e su questo non abbiamo ricette io vengo anch'io dalla gk e dalla manifestazione di di firenze che mi ha dato tanta tanta forza personale e appunto ho messo in tasca in borsa tanti volantini che mi sono stati dati fotografato tante bandiere eravamo tutti lì una volta tanto ognuno con la sua bandiera io vero io facevo il turista come piace fare nelle manifestazioni da quando non ho un cordone da tenere assieme che sono passati alcuni anni e quindi penso proprio che quella manifestazione il movimento reale sia la cosa e non per dire viva il movimento la politica ci pensiamo dopo no io sono un fautore dell'organizzazione politica anche se il mio percorso non è proprio un percorso classico di partito eccetera penso che a questo punto noi abbiamo bisogno di questa trasversalità eh che adesso cosa si chiama si chiama intersezionalità questa roba che è venuta faccio fatica a usare i nuovi termini e evidentemente c'è una eh si rischia eh il senso di impotenza e si rischia eh lo spaisamento io questo lo sento profondamente a fronte della dimensione dei problemi e e vado a chiudere anche perché la catastrofe climatica che non è percepibile se non quando ci capita sulla testa e allora abbiamo la nostra specifica catastrofe meteorologica o ambientale e ha un orizzonte molto vicino e c'è una sorta di cupio di solbidi o di di pulsione di morte che sta in questo rifiutarsi di affrontare la questione climatica e del e del provare ad accennare alla possibilità magari tutta tattica dell'uso del nucleare a fronte poi del nucleare energetico e quant'altro ecco io credo che ci sia una pulsione di vita fondamentale da 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 proporre e ci sia come dire una capacità di eh eh mettere un cartello di lavori in corso dentro tutte le eh forme di organizzazione che responsabilmente e e costruiamo dove questo cartello di lavori in corso dice che noi siamo disponibili a mettere in gioco le nostre forme di organizzazione e che ci vogliamo dare un 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 orizzonte ecco eh e chiudo davvero questione climatica pandemia e eh la guerra e poi le 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 lo stato sociale in lo stato di condizione sociale in cui ci troviamo ci dice che abbiamo necessità urgenza di muoverci di fare le cose contemporaneamente appunto col cartello lavori in corso di avere una eh un orizzonte vabbè ho messo sette minuti e ventisei mi spiace sono sporato i cinque minuti grazie grazie davvero volevo dare avere un po' di tempo per avere un po' una piccola replica da parte dei nostri ospiti e non so se abbiamo dieci minuti Franco e poi Ellen e poi Maurizio ma io volevo solo dire questo che ho trovato davvero interessante tutti gli interventi tant'è vero che ho preso fior di appunti non non formalmente perché penso che mh proporrò a trasforma cioè alla alla rivista insomma di forse scrivere anche un articolo di 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 commento e di sintesi di questo di questa discussione mi pare molto interessante io siccome non voglio rubare tempo nel senso che veramente ho vorrei riflettere su tante cose state dette da da quelle di 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 rifici della visione integrata autonomia differenziata il cosa produrla a a quello che ha detto adesso Roberto Rossi lavori in corso partendo proprio da questi lavori in corso e vorrei fare una domanda a Maurizio perché io gli ho scritto anche forse non l'ha letto ma insomma sulla chat che ho trovato molto interessante io come sapete sono molto sempre franco molto molto interessante tutto il suo discorso che io condivido completamente fino a un punto che non è il punto in cui Maurizio dice noi vogliamo essere una parte del processo perché quello è giustissimo cioè se uno è rosso che di fondazione comunisti porta dentro il rossio sono d'accordo il problema Maurizio è questo come si avvia il processo cioè si avvia con quello che dice Roberto Rosso dei lavori in corso oppure evitando ecco questo è il punto che vorrei capire da te evitando l'ideologia totalizzante perché la totalità del capitalismo e la critica sono d'accordo con te ma il fatto che una forza politica come rifondazione comunista metta un cartello lavoro in corso è pensabile o non è pensabile oppure inseguiamo nuovamente i gli appelli come se fossero uguali per ricostruire la sinistra facendo appello alla cgl e all'andini perché forte sul discorso teorico siamo tutti d'accordo la domanda è politica cioè possiamo partire con appunto i lavori in corso prima di Maurizio do la parola però meno per un piccolo commento anche Elena prego no io veramente volevo esattamente vorre questa domanda al mio segretario e due cose che mi sono appuntata erano i lavori in corso con anche un punto interrogativo e esattamente cosa cosa facciamo noi c'è come noi ci mettiamo a disposizione di questo processo proprio con la generosità a cui hai fatto riferimento te nell'intervento iniziale quindi io in realtà avrei comunque ehm voluto porre questa domanda al segretario che so tra l'altro mh prontissimo a rispondere poi volevo fare un'annotazione su quello che diceva Riccardo anche dell'autonomia differenziata e e l'importanza della relazione con i territori a cui faceva riferimento Roberto Rosso che nell'articolo 6 delle concorrenze di cui abbiamo parlato diffusamente con il forum dei movimenti eh per l'acqua pubblica si allontana il oltre tutti quanti gli altri testi che ci sono c'è proprio l'allontanamento del cittadino dall'istituzione che gli ha più vicina in fase di interlocuzione che è appunto l'autorità comunale il comune stesso nelle battaglie a cui faceva riferimento Roberto io sono il territorio dei Castelli Romani e c'ho la discarica di Lucigliano sotto casa e eh praticamente sono una delle persone che dal 3 agosto sta fuori a discarica tutti quanti i giorni insieme agli altri comitati abbiamo siamo riusciti a bloccarla grazie alla commissione trasparenza abbiamo trovato l'interdittiva antimafia però più si allontana la possibilità del cittadino di dialogare immaginate a relazionarsi con una multinazionale per la questione dell'acqua immaginate cosa possa voler dire per un comitato come eh i comitati per l'acqua pubblica che ci sono ovunque in tutta Italia puoi perdere il contatto con il comune e doversi relazionare con una con una multinazionale che è impensabile impossibile anche se non il comune non che neanche il comune sia meglio cioè il comune di Milano è riuscito ad arrivare al punto di mettere dentro il brick l'acqua pubblica cioè abbiamo fatto un comunicato come come rifondazione a Milano che il sindaco Sala è riuscito a mettere dentro il brick l'acqua pubblica quindi non è che qualcuno sta dicendo che il comune è sempre la soluzione migliore però è sicuramente la soluzione migliore rispetto a una multinazionale questo è arrivato quindi si ha mascherito di autorettore e poi come rifondazione può mettersi a disposizione noi abbiamo abbiamo penso dimostrato tantissimo in questi anni di avere di essere molto molto generose e generose come partito e come militanti quindi la nostra eh disponibilità politica la nostra disponibilità culturale la nostra disponibilità anche con i nostri corpi di esistere di mettersi anche in mezzo nelle vertenze esserci fare da ostacolo e veramente esserci fisicamente l'abbiamo sempre dimostrata cosa possiamo fare oggi? Cioè c'è bisogno di cosa? C'è bisogno di un nuovo movimento? C'è bisogno di una convergenza? Io credo che quello che sono stati in grado di fare in tanti paesi europei di arrivare comunque ad avere dei rappresentanti politici e portare avanti delle vertenze anche nelle proprie diversità possiamo farlo anche noi come hanno fatto Podemos possiamo farlo anche noi con le varie diversità rispettandole ma dentro un unico un unico soggetto non penso sia impossibile. Grazie Elena e do la parola immediatamente a Maurizio che abbiamo bisogno di tutto il tempo per No no io cerco di essere sintetico che è una delle cose che mi è più difficile allora innanzitutto in realtà la cosa che noi vogliamo fare è impossibile però come diceva il buon vecchio Pietro Ingravo noi ci occupiamo di cose impossibili cioè nel senso è cercare di costruire un movimento complesso che abbia la ricchezza di cui discutevamo non è una cosa facile cito un problema che non è emerso io la penso come devi darvi perché noi siamo abituati a citare il fatto che abbiamo sia nella sinistra ma intesa sinistra che viene dal movimento operaio sia nell'ecologismo una egemonia neoliberale un una sussunzione da parte diciamo dei centrosinistri diciamo così ed è un problema ma noi abbiamo un altro problema che ha sempre a che fare con la nostra sconfitta storica come scrive con mia totale condivisione devi darvi noi abbiamo avuto come cultura egemone nei movimenti della sinistra radicale dell'ultimo trentennio in occidente una visione molto localistica e orizzontalistica in cui sostanzialmente noi abbiamo avuto molta radicalità quindi non parlo di quelli che sono in cerca di un posto da sottosegretario per capirci o da assessore e fanno una lista ecologista insieme a quelli nella regione del TAV dimenticandosi che c'è il TAV in Val di Susano quelli li tolgo di mezzo parlo di chi fa le lotte ora un altro problema che noi abbiamo avuto è stata una visione per cui conta la mobilitazione locale e l'ideologia anche di mettere insieme le singole issues però rimanendo su un piano molto locale io non a caso nella postfazione che ho fatto un libro che a me è piaciuto moltissimo e per questo ne ho proposto la traduzione italiana cioè il manifesto del Green New Deal radicale l'ho chiuso con una citazione del vecchio poeta Beat mio maestro spirituale Lorenz Ferlinghetti quando dice che per combattere la devastazione ambientale la guerra e cioè questa catastrofe planetaria del capitalismo c'è bisogno di qualche forma di socialismo per fare l'ecologia cioè di un'azione su grande scala di trasformazione ovviamente un socialismo libertario dei diritti civili democratico tutto quello che ci pare però c'è bisogno di non rimanere alla discarica o alla lotta solo su singole questioni noi riuscire a connettere questi due livelli è un problema molto serio su cui a mio parere proprio il movimento sul clima ha fatto fare un salto di qualità su scala planetaria e con i Fridays for Future e io guardate sono contrario a mitizzare Greta come a mitizzare il Papa perché io quando sento compagni che avevano letto appunto lo diceva prima Roberto Rosso cose che si dicevano nel 1975 se le dice il Papa o grande novità eccetera la novità è che le dice il Papa e noi siamo contenti però e questo vale anche per i Fridays a mio parere però è importante una cosa con i Fridays è che negli Stati Uniti era accaduto prima perché ben prima di Greta si era affermato il movimento sul clima e cioè la consapevolezza che la questione ambientale ecologica richiede di mettere in discussione i meccanismi complessivi che governano l'economia e quindi la necessità di un'azione politica complessiva anche qui noi non siamo politicanti quando diciamo azione politica complessiva non pensiamo solo al terreno della rappresentanza perché se no avrebbe ragione chi fa solo le lotte dato le pessime prove che abbiamo dato sul terreno della rappresentanza ma ricostruire un punto di vista è un'azione in cui globale e locale tornano a stare insieme ora da questo punto di vista sempre per andare alla storia noi dovremmo riuscire a fare in modo che chi lotta rispetto alla devastazione ambientale in un territorio si senta parte di un movimento globale di trasformazione come accadeva mio nonno analfabeta che quando lottava da muratore per i suoi diritti però si sentiva parte di un movimento socialista mondiale pensate di un movimento socialista a New York da immigrato ai primi del novecento poi non so se aveva incontrato i socialisti o i wobblies ma comunque non fa niente cioè tornano socialisti cioè si sentiva parte di una cosa che univa di un movimento che univa quelli come lui in tutto il mondo ecco noi questa consapevolezza planetaria che abbiamo già prefigurato ai tempi di Seattle e Genova dobbiamo svilupparla come consapevolezza e azione militante anche in Italia per quanto riguarda il processo che dobbiamo costruire abbiamo delle difficoltà c'è innanzitutto lavorare per la convergenza dei movimenti e la manifestazione di sabato è sicuramente positiva come prefigurazione e ovviamente non possiamo far calare i processi politici dall'alto ma essere partecipi appunto e dare il nostro contributo a questa convergenza e abbiamo bisogno di attivare i lavori in corso in tempi anche brevi per un movimento plurale che abbia un respiro politico e che parli a tutti cioè parli a tutti coloro che si ritrovano nelle lotte o nel bisogno del nostro paese che ci sia un punto di vista altro che sia rosso verde e come dicevo anche a mio parere femminista del 99% per citare il manifesto da questo punto di vista lo dico tutte le forme che noi proviamo sono tutte un po' obsolete l'appello, gli appelli ma anche la convocazione di una manifestazione è una cosa vecchia qualsiasi cosa facciamo può essere vecchia credo che di nuovo possiamo fare in modo che al posto di avere varie forze che vanno iniziative in una direzione diversa come rifondazione, io posso prendere impegni per rifondazione finché non mi cacciano, credo che manchi anche poco noi dobbiamo essere colla, come dice la mia amica Francesca Fornario cioè dobbiamo evitare la divaricazione in direzioni diverse invece tenere insieme i vari livelli per questo io ritengo molto importante l'appello rosso verde il documento proposto da Transform come terreno di discussione io credo che dovremmo fare anche costruire un momento di discussione diciamo deviso, non solo online e anche momenti di approfondimento perché c'è bisogno anche di coinvolgere nella discussione tanti attivisti e attivisti di movimento anche delle generazioni più giovani o dei coordinamenti di lotta che sono in questo momento nel paese io credo che le potenzialità siano enormi e la guerra credo che indichi la necessità di questo punto di vista radicale che è complesso ma che tiene insieme diciamo, io ho ripescato Lucas insomma la totalità però cioè dall'opposizione alla guerra alla necessità di una messa in discussione dello sviluppo e su questo voglio dire una cosa per ora noi siamo in Italia forti nel punto di vista di dire no al carbone, no al nucleare ma la cosa più grave è la tassonomia in sé perché come la COP26 è la riproposizione del capitale che si propone come risolutore della questione ambientale degli Stati o dell'Unione degli Stati insieme che creano le occasioni di nuovo profitto per il capitale come risposta alla crisi ecologica ora a me fa piacere che dagli Stati Uniti invece arrivi una proposta completamente diversa e cioè quella di recuperare un approccio socialista alla crisi ecologica dentro questo percorso quindi io credo che il cartello lavori in corso non possa che essere plurale riguardare la ricomposizione delle soggettività organizzate perché anche quello è un problema anche questo della sclerosi dei precedenti cicli politici è l'incontro tra movimenti e l'incontro tra le soggettività politiche e movimenti dentro questo c'è bisogno anche di rimettere insieme le intelligenze critiche anche per litigare perché non si costruisce niente senza un po' di sano litigio però che sia produttivo di sapere collettivo e cioè in questo paese costruire anche un polo di pensiero plurale perché diciamo il pensiero unico è diventato tale nel nostro paese che si è diviso tra neoliberisti guerrafondai europeisti e neoliberisti guerrafondai pure fascisti e razzisti però hanno tutti le stesse coordinate tant'è vero che è stato il principale partito di opposizione in Italia vi ricordo a presentare la mozione per portare al 2% la spesa militare votata da tutti ora rispetto a tutto questo io credo che dobbiamo fare una proposta rosso-verde che risponde all'altezza delle potenzialità di convergenza che ci sono e nei prossimi mesi dovremo anzi direi settimane creare le occasioni di incontro dove di queste cose discutiamo per avere un'agenda comune e anche uno spazio politico comune grazie grazie davvero forse Roberto Musacchio dai fammi salutare a me dai fammi salutare a me che ho aperto con un aneddoto che voglio dire per ricordare un po' insomma io sono stato il primo responsabile di ambiente di rifondazione comunista per lungo tempo mi sono tenuto questa cosa qua anche perché ero responsabile di ambiente del partito comunista con tutti i casini che ci ho vissuto la prima cosa che ho fatto è quella di fare in modo che rifondazione avesse un solo dipartimento ambiente e lavoro messo insieme perché a bottego scure mi dovevo difendere da quelli del lavoro e qui era bene che stavo per conto mio però poi ci rincorrevamo per le scale quindi era abbastanza battagliata la vicenda la rifondazione abbiamo provato a mettere insieme all'inizio e va sicuro che è stata una grande fatica appunto tra la scelta che ha fatto la Cerboli di essere con me ci stanno anche le fatiche di chi discuteva sull'alta velocità eccetera eccetera non faccio l'elenco dei casini che ci siamo smazzati in senso positivo l'anettoto qual è? che dopo tutto questi anni di casini a un certo punto ci siamo trovati con Franco che veniva a rifondazione cosa che mi ha fatto molto piacere Franco e ciò mi è rivenuto in mente il titolo che fece il manifesto il manifesto fece questo titolo rifondazione si tinge di verde arriva Franco Russo ti giuro che io ero contentissimo ma dall'altra parte ho detto e che cazzo ma io fino adesso che ho fatto se non provare a fare le cose che anche Franco ci propone di fare quindi ho voluto chiudere con questo aneddoto per dire che abbiamo una memoria da recuperare e abbiamo soprattutto un futuro perché poi alla fine veniamo da una sconfitta quando io provo a dire cartello in corso quello che dite è soprattutto per questo cioè perché dobbiamo recuperare una sconfitta che abbiamo subito nonostante i tentativi che abbiamo fatto mi ha fatto molto piacere ritrovarmi qui con Franco quando me l'ha proposto sono stato contento grazie a Maurizio Elena che siete stati Riccardo e Roberto ci sentiamo sempre faremo un aggemellaggio tra colle ferro dove stai te a Gensano ronciliano ronciliano e il 22 noi facciamo l'assemblea di transform e quindi questi temi ci saranno dentro ma chiederei a Elena non solo di scrivere fa scrivere ad altri ma anche di costruire insieme l'appuntamento cantiere in corso cantiere in corso che è stato qui proposto in modo da poterlo realizzare Maurizio e Roberto chiuso io a questa volta ma bravo bravo sei efficiente bravo grazie a tutti grazie grazie arrivederci arrivederci ciao Franco grazie a tutti ciao ciao arrivederci ciao